Ben ritrovati con questa edizione del telegiornale giovedì 18 luglio, molta cronaca in testa e Andrangheta in modo particolare, nell'ordine parleremo di una grossa inchiesta che ha riguardato la presenza dell'Andrangheta in Nord America, di un'inchiesta sull'usura e l'estorsione che ha visto finire fra l'altro in carcere un vecchio boss di Rimbadi e poi di un latitante scovato dopo quasi sette anni. Ma partiamo dall'inchiesta, Canadian Drangheta Connection è stata chiamata proprio perché appunto sono le connessioni in Nord America e in Canada dell'Andrangheta al centro dell'attenzione e non solo, perché questa inchiesta ribalta il convincimento finora classico, in verità non radicatissimo nel senso che comunque qualche pentito aveva già parlato di situazioni si fatte, che ribalta un modello di funzionamento delle strutture andrangheta all'estero. Siamo abituati a pensare ad esse come organismi di coordinamento delle attività oltreoceano dell'Andrine, mentre questa volta si parla di una organizzazione, Crime of Siderno è stata denominata, che decideva anche per quello che accadeva in Calabria, quindi è una piccola rivoluzione nella ricostruzione degli organigrammi e delle linee di comando ed è anche la conferma che la pressione delle inchieste, della magistratura e delle forze dell'ordine ha spesso costretto poi l'Andrine a spostare lontano dall'Italia ciò che gli organismi decisionali, insomma per mettere anche a riparo da indagini arrestiche però arrivano puntualmente, sono 14 le persone fermate nell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo della DDA di Reggio Intendo e dai sostituti Simona Ferroviolo e Giovanni Calamita, 14 persone che sono boss e gregari della Cosca Mujà che storicamente è federata con il clan commisso di Siderno, sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, transnazionale e armata, chiaramente a tutti è contestata l'associazione mafiosa e poi di porto e detenzione di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura, favoreggiamento personale con l'aggravante del metodo mafioso. Seguendo le tracce di capi e gregari che sono stati fermati oggi, gli inquirenti e gli investigatori per la prima volta, ripeto, sono riusciti a documentare questa articolazione della Cosca Mujà con i piedi oltreoceano e le radici in Calabria che operava in Canada. Il crimine di Siderno poteva riunirsi in Nord America e decidere anche di quanto dovesse avvenire in Calabria. Per il procuratore di Reggio e coordinatore della DDA Regina Giovanni Bombardieri, l'operazione Canadian Drangheta Connection evidenzia ancora una volta l'internazionalizzazione dell'Andrangheta calabrese e la sua presenza organizzata in tutti i continenti. Nel caso specifico, ha detto ancora Bombardieri, le indagini della Polizia confermano che la presenza delle cosche di Siderno in Canada è ultradecennale. Passiamo adesso all'inchiesta che ha portato a due arresti, sono sette le persone coinvolte per un giro di usura ed estorsione. L'acquisto di un immobile nel maggio del 2011 è costato carissimo in tutti i sensi ad un imprenditore di Nicotera che ha finito per diventare in sostanza il creditore del boss Antonio Mancuso che è una delle due persone finite in carcere. Otto anni fa aveva chiesto un prestito. Non l'avrebbe mai fatto se avesse immaginato che sarebbe stato l'inizio di un'odissea di paura, minacce, umiliazioni, notti insonni. Per un imprenditore di Nicotera è finito un incubo iniziato nel 2011, quando si era rivolto ad un uomo del clan Mancuso di Limbadi. Alla fine però, disperato, ha chiesto aiuto ai carabinieri che lo hanno liberato da una vera e propria schiavitù, arrestando il boss Antonio Mancuso, 81 anni, ed il nipote Alfonso Cicerone, al termine di un'inchiesta della procura antimafia di Catanzaro che coinvolge anche altre cinque persone, vale a dire Giuseppe Cicerone, 88 anni, Salvatore Gurzi, 34, Andrea Campisi, 37, Rocco D'Amico, 38 e Francesco D'Ambrosio, 39enne. Secondo le indagini Cicerone, zio e nipote sarebbero concorrenti e cointeressati con Mancuso dell'attività estorsiva ed usuraria, mentre D'Amico, Gurzi e Campisi sarebbero stati coloro che materialmente vessavano la vittima. E di fatti i sette indagati devono rispondere a vario titolo di usura ed estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta è partita appena due mesi fa, nel maggio scorso, e grazie ad intercettazioni telefoniche ed ambientali ed appedinamenti ha portato alla scoperta di elementi di prova inconfutabili nei confronti degli indagati. Tutto ha avuto inizio nel maggio del 2011, quando l'imprenditore acquistò un immobile a Nicotera per circa 400 mila euro, di cui pagò immediatamente la metà, ottenendo una dilazione per la metà restante dell'importo. Quando il debito si è ridotto a circa 100 mila euro, però, gli ex proprietari hanno iniziato una pressione sempre più perentoria e sempre più minacciosa, finendo per rivolgersi a persone vicine ad Antonio Mancuso per recuperare il credito restante. Fino a che la vittima viene a sapere che l'intero credito era stato rilevato proprio dal vecchio boss, al quale avrebbe dovuto corrispondere le sue erogazioni in denaro. Da gennaio 2018 l'escalation. Per estinguere il suo debito, l'imprenditore aveva dovuto accettare di pagare 15 mila euro ogni tre mesi, somma poi ridotta a 5 mila euro ogni tre mesi. Un salasso comunque insostenibile, accompagnato da minacce ed ordini come quello di non aprire più il proprio negozio. Due mesi fa Alfonso Cicerone aveva dato alla vittima l'out-out, pagare o sloggiare vendendo la sua proprietà, per giunta con un aggravio del 10% di interessi. Fino alla svolta di oggi. Un'estorsione prolungata nel tempo, un'estorsione aggravata oltre dalle solite modalità, anche dal fatto che gli attori di questa estorsione siano degli appartenenti, abbiano utilizzato il cosiddetto metodo mafioso, quindi si siano avvalsi della forza intimidatrice della loro appartenenza all'associazione, al sodalizio organizzato. Un'estorsione che si è esplicata per più tempo e che ha visto correre parallelamente anche l'applicazione di tassi di interesse di natura usuraria nei confronti dell'imprenditore vessato. A margine del coraggio dell'imprenditore nel avere fiducia nelle componenti dello Stato, c'è stato un apparato investigativo forte sul campo che ha potuto raccogliere degli elementi assolutamente gravi e cristallizzare un quadro cautelare su dei soggetti così importanti che oggi hanno consentito in soli due mesi di giungere a un risultato così importante. Il quadro che è stato ricostruito attorno ai due soggetti oggi sottoposti a fermo è stato un quadro di assoluta gravità, per cui un quadro che ha ricostruito l'intera dinamica estorsiva e per cui l'autorità giudiziaria ha valutato in tal senso l'emissione di due provvedimenti di così grande importanza. Chiudiamo con la cronaca parlando dell'arresto dell'attitante Sebastiano Giorgi di 46 anni che è stato catturato a Sant'Ilario dello Ionio. Era a bordo di una macchina, una Fiat Panda nera, con i vetri oscurati e questo ha insospettito i carabinieri che stavano effettuando un posto di blocco incontrato a Moschetta sulla statale 106 e che lo hanno fermato. Sull'auto c'erano Giorgi e altre due persone, il pregiudicato che ha precedenti per reati di droga e di armi e che è legato alla famiglia Giorgi di San Luca è stato condannato per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. I fatti che gli vengono adebitati, le inchieste che hanno portato poi alle sue condanne risalgono al 2006. Passiamo alla politica e a Crotone perché si attende il rimpasto di giunta che sarebbe quasi fatto. Manca infatti soltanto un nome per completare la rosa degli otto assessori che affiancheranno in questa seconda parte della consigliatura il sindaco Ugo Pugliese che dovrebbe sciogliere la riserva entro domani. Le voci più insistenti anche se fino a questo momento si tratta solo di indiscrezioni, non ci sono conferme, parlano di tre assessori riconfermati, vale a dire Benedetto Proto, Valentina Galdieri e Giuseppe Frisenda ai quali si aggiungerebbero Nino Crugliano, Giuseppina Felice, Ines Mercurio e Pisano Pagliaroli. Domani dovrebbe essere scelto l'ottavo nome, quello mancante si sta riflettendo su una rosa di tre nomi che comprende una sindacalista, un imprenditore ed un consigliere comunale, quindi uno dei 40 del consiglio comunale che sarà scelto prima della conferenza stampa che ripeto dovrebbe essere annunciata entro oggi e dovrebbe tenersi domani per presentare la nuova giunta, ha risolto il problema della rappresentanza di genere, ci sono tre donne quindi il 40% visto dalla legge, l'unica questione ancora da risolvere è quella della maggioranza, ieri sera per annesima volta il consiglio comunale non si è tenuto per mancanza del numero legale, c'erano solo 16 consiglieri compreso il sindaco e il presidente, ne occorrevano almeno 17. Una donna di 35 anni di Montalto Fugo, lo sappiamo da ieri è morta per complicanze in sorte poche ore dopo il parto, oggi si parla addirittura di una clamorosa mancanza di sangue all'interno del presidio ospedaliero di Cetraro, sembra che ci fosse solo una sacca del gruppo appartenente a cui la donna apparteneva, la donna era originaria di Montalto Fugo ed era mamma di un altro bambino di tre anni, la procura di Paola ha aperto un'inchiesta su questa vicenda e quindi le indagini ora dovranno stabilire se vi siano state delle responsabilità, i familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri di Fuscaldo. Stato di agitazione dei tirocinanti calabresi, lo ha proclamato il CSA Regione Autonomie Locali in una nota inviata tra gli altri anche al presidente della regione Oliverio, l'assessore regionale a lavoro Angela Robbe, si rimarca l'assenza di dati certi in relazione ai tirocini formativi e nello specifico per quelli in essere negli enti pubblici e nelle aziende private le difficoltà di reperire risorse economiche necessarie per proseguire l'attività formativa e l'assenza di comunicazione da parte della regione Calabria nei confronti degli stessi tirocinanti. In considerazione della scadenza dei tirocini fa presente il CSA, il sindacato chiede che vengano forniti i dettagli finanziari relativi ai fondi disponibili e dalla discrepanza rilevata tra fondi stanziati e certificati dall'Inps, che sono pari a 290 milioni e mezzo di euro, e l'ammontare dichiarato dal presidente Oliverio pari a quasi 306 milioni di euro. Tali dati, dice il CSA, presentano un'evidente incongruenza per circa una quindicina di milioni di euro. Il sindacato fa sapere di restare in attesa fino al 25 luglio, però di riscontri e chiarimenti e proclama lo stato di agitazione, aggiungendo che se non vi saranno risposte verranno attuate azioni di protesta. Siamo alla vela allo sport, pagina ricca quest'oggi. La vela perché c'è il campionato italiano assoluto d'altura che si sta svolgendo a Crotone. Tra poco dovrebbe partire la terza regata, la seconda ieri non è andata a buon fine per assenza di vento. Vi aggiorneremo tra poco sullo stato dell'arte, sulle classifiche dopo la prima giornata di gare. Vi ricordo che per assegnare il titolo devono essere valide almeno tre prove, se ne possono svolgere al massimo otto e al massimo tre nel corso di una giornata. Per oggi e domani non è previsto vento forte, quindi è difficile che possano essere giornate in cui si concretizzerà l'assegnazione del titolo. In prima fila non poteva che essere così gli equipaggi e le imbarcazioni favorite della vigilia. Vi ricordo il Magna Grecia Lifestyle Village che è il villaggio che sta riscuotendo anche molto successo, presso il quale sono allestiti gli stand. Trovereste nel caso che vi circaste anche gli equipaggi delle imbarcazioni, insomma abbiamo già parlato, le potete del resto anche vedere al porto. Lo spettacolo non è indifferente. Ieri sera si è svolta fra l'altro anche la cena di gala, ci sono numerosi eventi collaterali. Comunque adesso il servizio. Vento protagonista nel bene e nel male nella prima giornata di regate del campionato italiano assoluto di vela d'altura. Prima l'attesa fino alla tarda mattinata del miglioramento delle condizioni meteorologiche per poter dare lo start alla prima prova. Poi il calo che non ha consentito di concludere la seconda. E dopo i venti freschi dai quadranti settentrionali degli ultimi due giorni, per oggi e domani è previsto un calo di intensità, mentre sabato, giornata di chiusura della rassegna, la ventilazione dovrebbe tornare moderata. Una variabilità che richiede un grande impegno per tattici e strateghi della trentina di imbarcazioni, circa 400 i velisti impegnati, che si contendono il titolo nel percorso a bastone di circa 6 miglia e mezzo nelle acque di Crotone. Nella classe 0, regata, subito il graffio di Altair 3 di Sandro Paniccia, che ha a bordo il due volte campione olimpico Luis Doreste e del cui equipaggio fanno parte Nello Pavoni e Daniele Cassinari. Nella stessa classe, divisione crociera, ottimo il comportamento di Milu Terzo di Andrea Pietrolucci. In prima classe, nella divisione regata, è in testa Blue Sky di Claudio Terrieri, mentre Far 40 di Daniele Bresciani è davanti a tutti nella divisione crociera. Benissimo guardamago 2 del regista Massimo Romeo Piparo, che all'esordio si aggiudica il primo posto nella classe 11-98, mentre fra le imbarcazioni da crociera comanda Morgan IV di Nicola De Gennis. In classe 3, nella classe regata, è primo Scugnizza di Vincenzo De Blasio, mentre nella classe crociera al comando c'è South Kensington di Massimo Licata d'Andrea. Infine Paolo Scattarelli, con Faust, chiude al comando la prima giornata nella classe 4. Tra le barche da seguire è anche Sugar Free, dell'Eston e Hot Kickers, con a bordo i fratelli, entrambi olimpionici Sandro e Paolo Montefusco, che tuttavia non può aspirare al titolo che è riservato solo alle imbarcazioni italiane. Oltre alle regate, la rassegna è arricchita dal villaggio Magna Grecia Lifestyle, che accoglie una ventina di stand dedicati a produzioni agroalimentarie ed artigiane d'eccellenza della nostra regione ed alcune mostre permanenti, nel quale ieri sera si svolta la cena di gala. Calcio, Crotone, parola d'ordine, sempre la stessa, non soffrire e poi aggiunge qualche protagonista partire forte. Oggi è il quinto giorno di ritiro, si è partiti infatti ufficialmente il 14 luglio scorso ai mille metri di villaggio Baffa. Sentiamo le dichiarazioni nei primi giorni di lavoro di due giocatori rilassati, evidentemente, nonostante le doppie che si tengono in questo periodo per tutte le squadre, tranne tra qualche rarissima eccezione. Sembrano abbastanza rilassati, sia benari che curato. Speriamo di partire ancora più forte, perché penso che conoscendo il Mist è ancora più semplice, c'è una buona base quest'anno, sono arrivati tanti nuovi e noi cerchiamo di aiutarli, sapendo che comunque è un gioco un po' diverso rispetto agli altri, quindi cerchiamo di aiutare sotto questo punto di vista per ambientarli bene. Si lavora tanto, come ogni anno, abbiamo un campo a disposizione bellissimo, abbiamo tutto a disposizione, i staff, i giocatori si mettono a disposizione, abbiamo tanto tempo di fare il gruppo, di conoscere i compagni nuovi e quindi, come l'ho detto, un gruppo bellissimo, si sta bene insieme e cerchiamo di crescere per partire forte. Ora sto bene, sto bene, l'infortunio ormai è passato, mi sento benissimo, ho fatto un buon ritiro finora, l'anno scorso anche facendo un buon ritiro, purtroppo mi ha tenuto fuori questo infortunio, mi dispiace che non sono riuscito a dare il mio contributo, ora stando bene voglio dare il mio contributo, ancora di più rispetto all'anno scorso, sono onorato dico perché di essere riconosciuto dai tifosi è sempre una cosa bella, quindi ci tengo a ringraziare tutti e partiamo quest'anno ancora più forte. Mi sono trovato benissimo l'anno scorso, quindi non è stato difficile prendere questa decisione, quando mi hanno detto, subito ho detto che voglio tornare e niente, sono qua. In questo momento bisogna lavorare, è sempre stato così in ritiro, si lavora tanto, tantissimo direi, quindi niente, stiamo lavorando benissimo, ragazzi, doppio praticamente tutti i giorni, quindi niente, tutto a posto. Per cominciare da sera, questo è un nuovo campionato, una nuova storia, quindi non è un vantaggio, cominciamo tutti da sera come l'ho già detto e niente, come ho detto prima, bisogna lavorare tutti insieme e dare il massimo prima per la squadra e poi così per ognuno. Ed ecco il momento di Io Scelgo Calabria. Io Scelgo Calabria, la grande rete della produzione e del consumo calabrese. Ogni giorno in coda ai nostri telegiornali vi mostriamo un pezzo di Calabria che lavora. Tutti assieme possiamo ottenere grandi risultati. Io Scelgo Calabria. Io Scelgo Calabria. L'idea l'hanno presa da un'esperienza vissuta, da un gesto visto e ripetuto nel corso degli anni tra i campi e i bergamotteti dell'Oione o Regino. Bergotto nasce così da una tradizione che, tramandata di padre in figlio, si trasforma in impresa senza perdere nulla del suo legame col passato e oggi festeggia dieci anni. Proprio quest'anno, a luglio, abbiamo iniziato a imbottigliare le prime bottiglie del Bergotto che abbiamo inventato qua, insomma, dieci anni fa, appunto, nel 2009. E da dove è nata quest'idea? Ma l'idea è nata dal fatto che noi producevamo liquori già a base di bergamotto, tipo liquori di bergamotto, agrone di bergamotto, però l'utilizzatore finale è un po' selettivo, tipo gli adulti, posso parlare gli adulti, chi non piace, chi piace, chi non piace. Abbiamo pensato di fare un prodotto, volevamo appunto sputtare questo bergamotto, che prima il succo, per esempio, non veniva utilizzato per niente. E ho iniziato a fare delle prove col succo, poi rendendolo gasato e, secondo una ricetta che usavano i miei nonni, nelle giornate d'estate, per contrastare il caldo, prendevano succo di limone e succo di bergamotto e gli mettevano il bicarbonato per renderlo gasato. E si creava una bibita molto dissetante. Ecco, da lì è nata questa idea, insomma, di creare questa bibita, che noi abbiamo iniziato a imbottigliare e a far assaggiare, siccome abbiamo un agriturismo, a far assaggiare i nostri ospiti e siamo stati confortati dal fatto che è piaciuta subito, insomma, abbiamo iniziato all'imbottigliamento che facciamo nella nostra azienda stessa. Scegli la Calabria che lavora. Entra nella rete di Io Scelgo Calabria. Il bergamotto è un agrume che si sta scoprendo negli anni, se vogliamo, anche sempre di più fuori dalla Calabria. Sicuramente, sicuramente, è coadiuato pure dalla ricerca delle università e dai vari studi, che hanno dimostrato che nel succo di bergamotto c'è la statina, le statine. La statina è un altro che il principio attivo che combatte il colesterolo e che quindi apporta, prendendo una razione giornaliera per 20-25 giorni, un 200 ml di succo, riesce ad abbassare veramente il colesterolo. E voi quest'anno, tornando al Bergotto, avete una novità? Sì, abbiamo una novità che abbiamo fatto, oltre alla bottiglia da litro, abbiamo una bottiglia in P&T che serve pure per il vending, insomma, pure per distributori automatici, oppure per una forma di comodità, insomma, è una bottiglia in apre e chiude, insomma, o il tappo a vite. Che tipo di clientela avete, cioè a chi riuscite a vendere i vostri prodotti? Beh, noi la clientela è molto vasta, dal bambino di 3-4 anni, insomma, all'anziano, ecco bisogna dirlo, abbraccia tutta la clientela. Soprattutto poi col succo di bergamotto si abbraccia quella clientela che ha bisogno di un'alternativa naturale alle medicine, cioè per contrastare il colesterolo prendono il succo di bergamotto, insomma, ecco, però pure il Bergotto stesso contiene il 20% di succo di bergamotto e che contrasta pure, insomma, anche se non in una parte molto grande, però il 20% di succo è sempre una buona quantità, ecco, in una bibita. L'edizione del Telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, ricordate che per restare aggiornati c'è sempre tgcal24.it Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.